Un'accoglienza come si conviene questa mattina all'Istituto Tito Cerbo di Pescara per il sottosegretario di istruzione al merito Paolo Frassinetti che ha voluto rendere personalmente onore una delle scuole più antiche delle città in occasione del suo centenario. L'intero popolo studentesco, il corpo docente, l'apparato istituzionale composto dai vertici dell'ufficio scolastico regionale dall'assessore regionale Roberto Sant'Angelo, il sindaco Carlo Masci e ovviamente la dirigente scolastico Carlo Di Michele hanno voluto dare mostra del prestigio di un istituto che nella sua attività formativa rappresenta una delle migliori sintesi tra radice e innovazione. Per lei visitare questi istituti che cosa rappresenta? Per me rappresenta un confronto con delle comunità scolastiche vive, all'avanguardia che sanno trasformarsi, attualizzarsi. È importante ascoltare, ascoltare le esigenze delle scuole, del personale scolastico, dei docenti, dei dirigenti scolastici ma soprattutto anche degli studenti che sono la parte più importante, più attiva della scuola. Quindi io sono sempre molto contenta quando posso toccare con mano le realtà e non stare solo dietro la scrivania del Ministero ma andare a visitare le varie scuole per capire quali sono i problemi quali sono anche i pregi di queste realtà, di queste eccellenze che in Italia sono molto più presenti di quello che uno possa pensare. Ma è un segno di grande attenzione nei confronti della scuola come sistema. La scuola credo che sia la principale istituzione del nostro paese non soltanto perché è il luogo dove si formano le nuove generazioni ma perché è anche un luogo di grande tenuta, di rapporti tra giovani, genitori, insegnanti. È un luogo di cultura. È il fatto che il sottosegretario, quindi il principale rappresentante di questa istituzione che è il Ministero dell'Istruzione e del Merito, visita le scuole è un riconoscimento all'azione che insegnanti, collaboratori scolastici, personale per cui si prodigono tutti i giorni perché credo che la grande emergenza educativa del nostro tempo voglia proprio dire aiutare i ragazzi a trovare la propria strada e la scuola è il luogo dove questo può avvenire.